Buonasera e benvenuti in questo nuovo recap di Serie A siamo arrivati alla 28esima giornata di campionato che è cominciata venerdì grazie alle vittorie per 4-0 della Juve su Lecce Lecce e Juve che si porta in vantaggio con Dybala calcio di rigore di CR7 poi c'è il gol di Higuain appena tornato dall'infortunio e il gol di De Ligt su calcio d'angolo forse i primi due gol della Juve sono 1-7 e poi Dybala ma comunque i marcatori sono quelli poi abbiamo la partita del sabato con il pareggio per 2-2 tra Brescia e Genoa Brescia che si parte in vantaggio con il gol di Donnarumma fa il 2-0 l'esordine in Serie A Semprini e poi nel secondo tempo ci sono due calci di rigore il primo calcio di rigore per il Genoa e diciamo un calcio di rigore un po' dubbio perché c'è stato un fallo su Romero che in realtà dicono che questo fallo non ci sia il primo calcio di rigore è trasformato da Iago Falke e il 2 nel secondo rigore e invece stavolta per un tocco di mano di De Sena e Pinamonti trasforma il gol del 2-2 poi abbiamo la sconfitta del Torino a Cagliari per ben 4-2 il primo gol è una bomba pazzesca di Nandez Schema da calcio d'angolo Schema da calcio d'angolo Nandez tira una bomba clamorosa fa il suo secondo gol in campionato il gol all'andata l'ha fatto proprio contro il Toro il 2-0 lo fa Simeone il 3-0 lo fa Nainggolan il 2-1 lo fa Bremer anche un gol un po' fortunato perché c'è stata una mischia e Bremer si è ritrovata lì facendo anche una mezza rovesciata il 3-2 lo fa Pelotti su cross di Ola Aina e il 4-2 lo fa Giopedo su rigore per un fallo di Enkulu in questo momento mi ricordo che comunque fosse sullo stesso Giopedo e poi c'è stata la vittoria della Lazio per 2-1 Lazio Fiorentina che si perde in vantaggio con un grandissimo gol di Ribery anche lui tornato dall'infortunio che si libera tutta la difesa e di potenza la mette alle spalle di Stracoscia ma poi arriva la Lazio con un rigore anche quello molto regalato perché Drongoschi esce ma Kaiselio stava già cadendo in precedenza hanno dato questo rigore e Immobile fa l'1-1 e poi c'è Luis Alberto che fa gol per il 2-1 una notte negativa per la Fiorentina l'espulsione al 93esimo di Vlaovic per una gomitata all'avversario non so perché tu devi farti espellare al 93esimo ma va bene così bravo Vlaovic che si fa a espellare poi le partite di ieri cominciando da Milan-Roma 2-0 per il Milan che si perde in vantaggio ormai con il solito Ante Rebic un gol anche propiziato da un regalo di Zappacosta che perde palla Rebic recupera la palla la passa al compagno la ripassa in mezzo a Salem Hikers la butta in mezzo rovesciata di Kessy Parat di Mirante la palla ritorna sui piedi di Rebic palo e poi la palla ritorna di uno sui piedi di Rebic che la butta in rete per l'1-0 e poi arriva il gol di Cianoglu per il 2-0 su calcio di rigore per un fallo di Diavara su Teo Hernandez che come al solito è sempre in aria perché Teo Hernandez è fortissimo è clamorosamente fortissimo poi c'è la vittoria per 3-1 del Napoli sulla spalla il vantaggio si parte in vantaggio con Mertens al quarto minuto poi c'è il gol del futuro un saccatore del Napoli Petagna perché ricordiamo che dà la prossima stagione del Napoli quindi Petagna fa l'1-1 il 2-1 lo fa Caléon e il 3-1 lo fa Iunes con tipo il suo secondo gol in campionato non mi ricordo che abbia fatti i gol l'altro gol non me lo ricordo questo vuol dire quanto quanto Iunes ha fatto con il sede poi c'è stata appunto la vittoria del Bologna a Genova contro la Sampdoria un Bologna che rimane il risultato che rimane fissato sullo 0-0 fino al 75esimo quando Barrow risolve sblocca il risultato su calcio di rigore poi fa il 2-0 lo fa Orsolini sempre su Assis di Barrow ma secondo i giornali non è stato considerato Assis di Barrow magari c'è stata una deviazione o qualcosa e poi c'è stato il 2-1 all'88esimo da parte di Bonazzoli per il 2-1 della Sampdoria poi c'è il 3-2 dell'Atalanta contro l'Udinese Atalanta che si porta in vantaggio con Zapata fa l'1-1 Lasagna fa il 2-1 Muriel il 2-2 Lasagna e il 3-2 Muriel per il 3-2 appunto finale poi abbiamo l'incredibile pareggio pirotecnico tra Sassuolo e Verona per 3-3 un Lazovic assurdo assurdo Lazovic che fa l'1-0 con una sbordata da fuori area poi segna subito il Sassuolo con Bogat Stepinski fa il 2-1 con un altro cross di Lazovic che fa 6 assist in campionato e da quello che ho detto gli ha fatto la Frivela assurdo un qualcosa di devastante poi c'è stato il 2-2 di nuovo di Bogat mi sembra mi sembra di Bogat sia stato il 2-2 ora di Bogat mi sembra mi ha insegnato solo Bogat e si Bogat anche Bogat me lo ricordo si Bogat fa il 3-1 Pessina no fa fa il 3-1 Pessina si poi Bogat fa il 3-2 e incredibilmente al 97esimo arriva il 3-3 con Rogerio forse ho detto un Bogat in più perché mi sono impappinato con questo E3-3 doppietta di Bogat e Rogerio al 97esimo e poi c'è la partita di questa sera che è stata Parma Inter che vince 2-1 Parma che si porta in vantaggio con Gervigno e l'Inter recupera la partita negli ultimi 5 minuti grazie ai gol di Defray e Bastoni quindi due difensori centrali nell'Inter incredibilmente nell'Inter e nel Parma ci sono stati due espulsi a parte nell'Inter l'unica persona a farsi espellere due volte dalla panchina è il terzo portiere Bernie che per proteste si è fatto espellere l'unico giocatore che si fa espellere due volte dalla panchina mentre per il Parma c'è stata l'espulsione di Kuchka quindi per questo recap di Serie A la Serie A ritorna domani con non mi ricordo quale partita cioè oggi non giocano domani con Torino Lazio e finisce la giornata finisce giovedì con Roma Udinese quindi ci vediamo domani sera cioè ci vediamo giovedì sera con il nuovo recap di Serie A abbiamo molti perdetti cioè abbiamo molte molte partite tra cui appunto l'incredibile pirotecnico pare il giù tra Sassuolo e Verona camoroso quindi ci vediamo al prossimo video bella ciao ciao Grazie a tutti.